La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. E ancora eccellenza dell'anno, ripetiamola a mai finire questa parola, innovazione, leadership, catering e banketing. E allora, qui siamo in un altro ramo però sempre altrettanto interessante. E a proposito di, interessante, realtà interessante, The Winner is Rama Eventi. Rama Eventi. Per essere un'eccellenza campana nel proprio settore, punto di riferimento sia per i partner che per i clienti finali, per promuovere nella sua attività le più belle location italiane, oltre che la cucina mediterranea nel mondo. Per la grande professionalità, l'innovazione e il rispetto dell'ambiente. E beh, anche perché se bisogna promuovere il territorio bisogna rispettarlo, quindi insomma le due cose vanno di pari passo. Benvenuti, grazie e complimenti. Eccellenza dell'anno, innovazione, leadership, catering e banketing. Rama Eventi. Complimenti, complimenti. Grazie.